buongiorno buongiorno coccodrilli ci siamo ci siamo no vabbè ho fatto anche aspirato stamattina sta pieno raga sta pieno 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 sarà sta intanto vediamo una ragazza molto indaffarata perché mi sta aiutando fare delle robe chissà che starà facendo eh guarda come cuce vai 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 ci sono dei costumi da ragazza chissà che succederà fa 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 ma qua c'è più fa oh no nonno le chiavi del cacchichi non le hai presi sto cazzo ecco la bella ma si ti tiro giù tutto ma questo adesso ti tiro giù un attimo concentrati concentrati si ma allora noi un bacetto oh col bacetto e la nonna parti diretto schieramento qua eh sta bacheca rica sta piena sta piena dei santi guarda che lavoro se ce ne abbiamo di tutti i tipi c'è anche quello che fa l'onda energetica che stefa senti che ma ma non a me mi piacerebbe tanto fare una cosa no ascoltami però per bene ascoltami a parte scherzi mi devi ascoltare perché a me mi piacerebbe fare tanto una cosa cioè nel senso che io vorrei fare una cosa perché me la sento veramente dal cuore perché mi piacerebbe tanto per risolvere i maschi mi piacerebbe tanto a fare la sta cosa hai capito ma mi dici che cazzo sta dicendo fammi toccare il cincillato fammi toccare il cincillato non ti smettere le palostrosi guardami le voce no le minacce no 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 a me me la fa tanta c***a che mi viene a prendere ma io voglio toccare il c***a ma a me ne tocca niente cosa tocca tu ne tocca niente ti fa tanto il c***o no cosa tocca vaffanculo cosa tocca fammi tanti versi e me cosa tocca la f***a oh ma un pezzettino di cincillano eh che sega vabbè niente raga me vuole far toccare il cincillato però io sono un bravo nipote adesso vi porterò su un posto bello una so bella sorpresa io hanno queste splendide lettere eccola qua caro una marina hanno faustino e caro carletto che bello grazie mille simone dal piemonte grazie grazie mille quanto sei bravo guarda che omino bravo guarda quanto sei bravo giusto non c'è voglia di venire ebbè ti faremo ebbè ti pareva e scendi se scendi lì come posso scendere vai scendi nonna maria andiamo qua sopra ben d'ingiù non te la scoffa che ho fatto è caricato non te la scoffa no ma perché non avrei dire qualcosa ma non c'è parolace però il ragazzo non scoffa magari per te oh madonna mia sempre a giusto da ti si sente chiara sarrofino aiutatelo perché è matto è matto oddio mio che volevo salire bu madonna che bello dove stiamo un bel posto eh c'è la gente c'è la gente c'è la gente ma che spettacolo cin vai cin fermiti facin al cim c'è la natura che mica sei normale non esaglierà perché il capocollo ti fa male capocollo ti fa male vabbè vabbè non ne mangia dopo non te cresce più il pelo sui bracci eh ma se tu a te ti fa male non ne mangia chi mangia non urlare c'è san francesco direi madonna c'è san francesco che sta guardando ora quanto è vicino vieni qua vicino a questa donna ma che è il telefono mio ma chi è sto rispondi tu ma e se tu chi no no ma chi era o no chi era chi era fermati non ti rilpevo non ti parassi classici 50 grammi eh secondo me è netto e mezzo netto e mezzo buono eh o no penso per te gli hai messo il peperoncino perché lui ce il vuole il peperoncino eh no no io perché sta cambiando un po' la temperatura sta nevicando guardate come nevica madonna di campiglio orti sei canazzei trema anche il braccio per quanta neve sta facendo ma quando sta in giro fa tutto il buono eh guarda quando datti una regolata però se no lo si smettela ti trema il braccio no guarda come trema che te trema come me trema in giro che te trema che te trema faccio tu non faccio tu non faccio tu non faccio tu no ormai proprio si è sgamato eh pronto oh o no eh eh ormai proprio mettona sei una faina ti piace che credo guarda che cressina da galletto eh dai un bacetto guardate che bello ragazzi qui per i 20 cioè top qui eh che ci sta dentro non c'è niente qui ci fa il fuoco quando l'ha scallato ci pianta ci fa l'arrosto ci mette anche il pane che ci mette però la legna e dopo ci piscia guarda avanti guarda come rire il coccodrillone felice valla valla eh valla valla che c'è da lì ma ci mettono i piccioni dentro no che ci mettono i coglioni no tutti i piccioni infilati comunque che posti che ci abbiamo in Umbria eh è vero o no oh no no ecco devi rovinare sempre la magia no come sei stata oh non amare come sei stata bene grazie Federico è una cosa meravigliosa gente che verranno da tutto il mondo perché da di lì è una cosa bella 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 eh sei stata bene dalla masseria sei stata bene tanto eh tanto meno male via vai con dio vai con dio oh vabbè anche questa settimana sta pieno di vincite subito macbook air questo vola 13 e 44 con 54 puntate incredibile questa è la sezione dedicata all'apple guardate quanti iphone anche apple ipods quindi pronti per fare una puntata non è luxury eccola qua crystal se avete un appuntamento con una bella sorca questo al top ora vi lascio 10 puntate gratuite fate swipe mia nipote che sta a fare un vecino non mi fa capire niente dai vabbè vabbè ti aspetta il garage ci vediamo ciao ci vediamo chi è tu che ti smetto di far te stare cazzo ma chi è adesso io non fai niente vabbè sciopero siopero ma vabbè mi fai cos'è di chiedere di colore ok era il lancio del era la bomba del del demoooooo dell'aia ah cazzo che è ma in bozza fa le fiamme almeno da dove dai culo ma perché ma baffanculo che viene a fare le bozza in drogata stupido all'improvviso che uno sta a fare i cazzo sui e tu sta a sparare passativo quando si passa qua ma per casa ha visto un cincillà si dove sta il cincillà ce l'ho qua e qua il cincillà non mosca fammi toccare il cincillà nooo si è comportato sto ragazzi si è comportato malissimo ma perché ha fatto altro che menà perché c'è anche Vittorio Sgarbi capra 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 caprone perché lui è perché lui è il bello di Roma che sta raccontando tutte le spacconate sta raccontando le spacconate che lui va di qua va di là grazie a chi grazie a chi a Federico ma schifatevene 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 grazie a chi 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 che cazzo ooo benedictus 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 papis impotentis deus e te padri e te fius bestemmiorum e te fili e te spiriti no no contro il papa no no contro la santità no scusate il miracolo lo fate ogni tanto i miracoli ci stiamo attrezzando fai alzare il cincillà è morto il cincillà risorgi cincillà risorgi che sta più di qua che di là risorgi cincillà qui è un teatro all'aperto eh ragazzi teatro all'aperto proprio vero vero e proprio codrilli andate a vedere il resoconto mensile di questi ragazzi fate così con il ditino e date una sbirciata andate a vedere tra meno di un'ora andrò a giocare a calcio a sette o calciotto non so come lo chiamate anzi ditelo come lo chiamate alle parti vostre noi si chiama calcio a sette perché sono sette contro sette non vedo l'ora anche perché tanto tanto che non gioco scrivendo in tantissimi che vi piacciono i momenti che passo alla panchina lì dove sta il nonno ma ragazzi per chi mi segue da un po' abbiamo fatto delle cose lì pazzesche cioè poi le ripeteremo quando sarà un po' più tranquillo ma veramente veramente top da gustissimo passarci perché dico ma tra un po' di anni pensa quando ci starò io con i miei amici a cazzeggiando quello loro si divertono tantissimo raga da prendere spunto veramente sono delle persone fantastiche veramente veramente fantastiche guardate ora la porto cioè me la vengono a prendere e la rimettiamo in moto la super vespona per quest'estate quanto è bella la vespa oh bacia la maglia bacia la maglia dell'inter bacila dove è a giocare a calcio a sette sono tanto contento voglio condividere sta cosa con te con un bel pennello guarda to 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 vuoi fare il pennello to to no falto bene ti ch***a b*****o tutti i quattro ti acciacca mamma mia ma chi è cristiano romanti la visita è andata non bene guardate c'ho fatto oh c'ho fatto c'è stroncicato da voi come si dice eh c***a marì stronci stronci senti senti sto ma v'è fanculo non ha già che risposta no ho voluto arrivare un po' per te vabbè 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 tu non la segliata no la segliata no le minacce no codrilli anche questa giornata è terminata ci vediamo domani domani sarò via tornerò venerdì perché mi sono da fare le ultime cose per il video in più domani sarò a pranzo con un amico molto molto speciale vedrete chi e niente sempre belli carichi anche perché con questo video stiamo lavorando veramente veramente tanto tanto forte perché era una delle cose che avrei voluto fare assolutamente insieme al nonno perché boh una canzone insieme al nonno per me ti resta tutta la vita e sarà un ricordo assurdo quindi ci sto mettendo anima e cuore insieme a uno staff fantastico non vedo l'ora veramente di farvela sentire di farvi vedere tutto il video perché non so se sarà più bello il video o il backstage perché quando lo gireremo penso che boh sarà anche difficile perché il nonno sapete com'è quindi però chi se lo aspettava bello così belli voi belli noi belli tutti grazie mille ragazzi vi voglio bene buona 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 notte grazie mille